L'Unitalsi è dell'Oftal e di tutte le associazioni, ecco anche il CVS di volontariato, presenza preziosa e segno così bello. Bene, penso di aver ringraziato tutti, se qualcuno si è dimenticato lo mettiamo in prima linea nelle mani della Madonna. E adesso accogliamo dall'Arcivescovo la benedizione, dopodiché sarà possibile avvicinarsi all'effigie della Madonna, davanti posizioneremo una brocca dove sarà possibile deporre delle intenzioni di preghiera che Padre Nicola porterà all'Urd. E poi potrete entrare qui nel santuario del rimedio e di passaggio salutare e venerare le reliquie di Santa Bernadette, per chi vuole evidentemente anche salutare anche i missionari. E poi ci sarà un momento così di fraternità, un rinfresco che le comunità, in modo particolare quelle di Siapicia, questa sera hanno preparato per noi. Sì, chi non avesse preparato a casa il foglietto con le intenzioni di preghiera, come fa? Si può avvicinare qui e appunto scrivere e poi deporlo nell'altra. Il Signore sia con voi, sia benedetto in nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Vendiamo grazie a Dio. Un canto che tutti conosciamo. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Dio Onnipotente, Padre e Spirito Santo.